Torniamo a parlare di Veneto, di Economia, di Italia e di Expo come opportunità. Scaramuzza, allora questo Expo può servire anche per insegnarci a far rete, dicevamo, e per insegnarci a proporre, forse anche meglio, un prodotto che abbiamo, che fa parte proprio del nostro DNA, le nostre bellezze, i nostri prodotti tipici? Sicuramente dobbiamo imparare a far rete e anche se la facciamo dobbiamo sempre farla in maniera. Expo, ripeto, è una grande opportunità. Magari anche usando le tecnologie, cercando di dialogare con un mondo che è velocissimo, molto veloce. Sicuramente bisogna rivolgerci alle tecnologie e a tutto quello che è internet o comunque anche i social delle volte ci permettono di far conoscere prodotti e territorio fuori dei nostri confini sostanzialmente. Perché a volte l'artigiano o comunque la piccola realtà che quindi crea anche un prodotto d'eccellenza perde di vista magari la commercializzazione e la diffusione spesso attraverso la rete, quindi anche tecnologie diverse, innovative, che a volte se non c'è qualcuno di dedicato si fa fatica anche a continuare a stare al passo. Beh, questo è lo sforzo che si dovrà fare poi, questo è lo sforzo che si dovrà fare sicuramente dopo perché un visitatore che viene ad Expo sul territorio o comunque ad Expo Milano sicuramente nei padiglioni potrà vedere, conoscere, assaggiare dei prodotti del territorio ma non li potrà magari portare a casa. Questo magari tornando a casa, andando a cercare su internet potrà riscoprire o ritrovare il territorio, le aziende che producono e magari farsi rispedire nel proprio paese, al proprio ritorno, quelle sensazioni che il nostro territorio è riuscito a trasmettere soprattutto al visitatore straniero ma anche al visitatore italiano perché comunque ad Expo passeranno anche i nostri italiani che magari forse conoscono poco il nostro territorio. Come sta andando Expo Veneto in questo senso? Un portale che raggruppa tante eccellenze, anche molto diverse tra loro, invicizzate, uno visitando il sito, se volete anche ricordarlo, volentieri promuoviamo queste iniziative perché da casa uno si domanda ma come faccio a vivere l'Expo? Uno dice devo andare a Milano, non è mica vero. L'Expo è dentro ogni nostro singolo paese, ogni singola città perché siamo noi stessi poi a promuovere le nostre iniziative, quindi Expo Veneto. Come sta andando? È un grande collettore di iniziative. Beh, Expo Veneto sta andando molto bene, il sito è www.expoveneto.it e poi www.expoveneto.it e poi www.te.com e tutte le declinazioni varie e direi che sta andando molto bene, infatti siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto perché attualmente ci sono circa 650 eventi che sono promossi dalle aziende stesse, abbiamo 1600 aziende che si sono iscritte, che quindi stanno promuovendo i loro eventi e ci interessa di allineare che tutto questo è fatto in maniera assolutamente autonoma, cioè non è che abbiamo preso un elenco e l'abbiamo trasferito lì all'interno, ma ogni azienda si è inserita in maniera autonoma, poi noi ovviamente le abbiamo analizzate perché ovviamente devono passare tutta una serie di filtri per poi essere pubblicate, ovviamente hanno l'obbligo di fare in inglese. In quante lingue è tradotto questo sito? Il sito è tradotto in 27 lingue, quindi in 27 lingue il visitatore, che ovviamente fa parte di questo, potrà vedere tutti quanti i risultati e capire com'è strutturato il nostro Veneto di fatto, perché ci sono inserite tutte quante le varie eccellenze e tutte le varie modalità di come accedere al sito. Poi ovviamente un'azienda per essere visibile sul nostro sito deve avere come minimo tradotto il loro evento e tutte le loro informazioni relative come minimo in inglese, questo proprio per dare anche un po' uno spunto. Voi vi impegnate quindi alla traduzione nelle altre 16-15 lingue, italiano e inglese esclusi, quindi però è minimo. No, le aziende diciamo autonomamente devono inserire queste informazioni, perché il tutto, vorrei sottolineare, anche questo è gratuito, cioè ogni azienda può inserirsi all'interno di questo portale in maniera assolutamente gratuita, non è previsto nessun fee, non è un sito che è stato pensato per poi attrarre, diciamo, banner pubblicitari, cose di questo genere, ma è essere proprio l'embrione, diciamo, di quella che potrebbe essere un'agenzia per lo sviluppo e quindi, come diceva lei giustamente, un collettore di tutti quelli che sono gli eventi e le aziende che realizzano questi eventi del nostro territorio. Certo, avete già un primo feedback di quelli che sono gli accessi a questo portale, eventualmente Italia estero, o è troppo presto, è ancora prematuro? Ma, diciamo, non è prematuro nel senso che, essendo un sito che si propone per pubblicizzare tutti gli eventi che sono dal primo maggio al 31 ottobre, è ovvio che inizia adesso, se vogliamo, la ricerca, però già fino adesso abbiamo circa 300.000 pagine viste, abbiamo su Facebook oltre 16.000 fan, abbiamo un'interazione in particolare su Facebook molto elevata, proprio perché di fatto, il fatto stesso che sia tradotto in molte lingue ha tratto anche visitatori che navigano nella loro lingua madre, che non è tanto frequente nei nostri siti, vuole essere anche proprio un modello per far sì che anche le aziende capiscano che non è sufficiente tradurre un sito in inglese, ma va tradotto anche nella lingua madre, perché sempre di più i visitatori ovviamente analizzano i siti nella loro lingua. Certo, ed è un portale, questo lo aggiungo io, che presenta non solo aziende, ma iniziative vere e proprie, per cui degli incontri per poter conoscere, provare, assaggiare quelle che sono realtà di territorio, che siano dei prodotti da assaggiare, ma può essere un laboratorio, una visita da fare, per cui un modo per poter vivere il territorio veneto, questa è la chiave sicuramente. La chiave è esattamente questa, nel senso che un'azienda è inserita all'interno solo se ha un evento, quindi se non c'è l'evento l'azienda di fatto viene parcheggiata, però è un incentivo proprio questo, uno stimolo per creare l'evento stesso. Certo. Furlani, allora, Expo, siamo partiti, da qualche minuto è in diretta l'inaugurazione, che poi magari la regia in qualche momento saliente, quando ci fanno vedere questi famosi padiglioni che siamo in attesa di capire se sono finiti o no, perché ci hanno fatto tribolare tutti quanti. La regia ci manderà qualche immagine, magari per capire come sono, perché alla fine la corsa è stata fatta e sembra che siamo arrivati, diciamo, preparati o quasi all'inaugurazione. Il nostro stesso padiglione era quasi completo, quasi al 100%, manca qualche finitura, ma ci siamo in questo senso. Beh, anche questo è un segnale positivo. Assolutamente. Forse per la prima volta arriviamo in tempo. Fino a qualche mese fa. Però, diremo, credo che dobbiamo sfruttare questo tempo della promozione, in un certo senso, perché Expo per noi deve essere la promozione delle nostre eccellenze, del nostro essere Italia. Qui vediamo la Corea, mi dicono dalla regia. Ecco, vediamo la presentazione Rai. Noi rubiamo qualche immagine, come giornalisti, fino a due o tre minuti se lo lasciano fare. Prego, continui pure l'interrompo. E quindi diremo però per prepararci, quindi questi sei mesi per prepararci e essere presenti sui territori dei nostri ospiti. Perché se non saremo presenti con i nostri prodotti, attraverso le piattaforme commerciali, che dobbiamo sfruttare, quelle allestite, o andare a costruirle, perderemo anche questa occasione. Quindi non possiamo più permettercelo. Certo, perché poi la partenza è importante, ma il periodo clou si pensa che possa essere settembre-ottobre, quando a Milano c'era anche la moda, quando c'erano tutta una serie di appuntamenti anche collaterali, e l'affluenza anche qualitativamente importante potrà essere quella. Quindi tutto un periodo di rilievo, ma questo appunto può essere un po' un trampolino di lancio per essere proprio pronti e efficaci, presenti ad un Expo dove gli ultimi due mesi saranno il rush finale. E tutti potranno partecipare, perché anche le piccole realtà per una giornata, per qualche ora, potranno essere presenti all'Expo, presentare i propri prodotti, in che modo? Dopo sicuramente diremo che l'obiettivo di Expo sta dopo in un termine, che è l'internazionalizzazione, e quindi la capacità di andare a proporsi a casa degli altri. E quindi la costruzione e tutta la motivazione di questa partenza e la nostra presentazione sta in quell'obiettivo. Certo. La regia ci dice che sta partendo il concerto di Boccelli, ma noi continuiamo con il nostro contributo. Ogni tanto quando c'è qualche padiglione mandatelo pure in linea, che lo vediamo volentieri, visto che sono stati ultimati proprio in queste ultime ore, moltissime appunto, erano sulla chiusura. Erano migliaia gli operai, 5.000 le imprese per lo più del nord-est impiegate, 7.500 gli operai all'opera in questi giorni per completare appunto gli ultimi padiglioni. Per cui sarà molto bello vedere poi le prime riprese che appena le avete disponibili potremo vederle. Intanto continuiamo con il nostro secondo contributo per dare spazio all'attività dei piccoli produttori, dove in Italia appunto prima si parlava di burocrazia. Non è sempre facile fare imprese in Italia se si è piccoli, forse è ancora più complicato, perché magari non hai un ufficio preposto da adempiere tutta quella moltitudine di inconvenze che spesso ti trovi a dover adempiere per essere in regola. E spesso rimane comunque l'incertezza che in regola forse non si è, perché si dialoga sempre con interlocutori diversi. Vediamo il prossimo contributo. Che cosa rappresenta il soave? Che cosa c'è dietro a queste 5 lettere che compongono il nome di una denominazione? Un vino bianco conosciuto ma mai abbastanza. Sono 3000 viticoltori che coltivano queste colline alle mie spalle, palesemente di origine vulcanica come si può vedere dalle sagome. Il soave classico per due terzi appunto costituito da suoli di questo tipo. E queste 3000 famiglie lavorano ogni giorno, ogni settimana, ogni mese dell'anno per garantire un livello qualitativo veramente importante che ci ha portato a esportare in 68 paesi. Emergere come nel caso mio di un piccolo produttore di soave e giovane produttore vuol dire dedicare tutta la propria passione e fare dei prodotti diversi e nello stesso modo essere competitivi. La sua è un'azienda totalmente a gestione familiare, ma queste aziende sono abbastanza colpite dalla serrata burocrazia che c'è in Italia? Sì, la serrata burocrazia, gli enti di controllo fanno sì che il nostro lavoro è zavorrato sostanzialmente, i continui controlli, i tanti enti che ci controllano tante volte creano confusione e creano difficoltà. I paesi europei e anche extraeuropei hanno meno burocrazia e hanno più facilità, meno tasse ed aprire un'attività è più semplice e più facile. Ci sono anche molti produttori che portano parte del processo produttivo all'estero, è un'esternalizzazione questa? Sì, che non ci riguarda però. Nel caso del soave è un vino che ha un'origine, uno stile e un valore. L'origine non può essere in discussione, è inequivocabile. Nulla di quanto viene prodotto qui può essere vinificato o ricreato altrove, esistono proprio dei requisiti a seconda della tipologia che ti obbligano, che obbligano un'azienda a effettuare la vinificazione nel territorio della DOC e quindi non esiste nessuna possibilità di delocalizzazione nel nostro ambito per chi vuole fare un vino di territorio come il soave. Per chi invece volesse fare vitigni internazionali o vini da vitigni internazionali, allora lì la sfida è molto variegata e si può guardare un po' dappertutto. Ma quello che è soave è qui alle mie spalle. E continuiamo a parlare di prodotti di eccellenza. Professor Cazen, spesso appunto lo Stato non aiuta. Molti gli enti diversi con cui dialogare, quindi anche risposte diverse, tempistiche diverse, burocrazia faraginosa, che affatica un'economia invece di dargli slancio, sempre nella tutela ovviamente del consumatore. Però non è al fianco dell'impresa oggi lo Stato italiano? No, lo Stato così come è organizzato, come è stato organizzato, è un peso per chi lavora, per chi produce, per l'imprenditore, che sia agricolo, che sia industriale, la stessa cosa. C'è tutta una serie di situazioni che potevano ancora resistere, non so per quanto, prima che arrivasse l'euro, con l'arrivo dell'euro abbiamo fatto i conti e ci siamo trovati spiazzati. Lo Stato non è in grado, e il governo, qualsiasi governo, non è in grado di risolvere problemi che sono stati messi sul tappeto ormai da anni e che non sono stati mai risolti. Adesso è necessario darsi una mossa, ma chi si deve dare la mossa è sempre l'imprenditore. Bisognerebbe, come diceva questo agricoltore, questo imprenditore nel settore agricolo, che lo Stato perlomeno si tirasse fuori e non ostacolasse la produzione. Non occorre nient'altro. Abbiamo un altro esempio in Europa che è l'Olanda. Per due anni l'Olanda, due anni e mezzo, l'Olanda non è riuscita a mettere insieme un governo, lo Stato si è lo Stato. I cittadini si sono governati da soli e hanno risolto il 50% dell'economia. Quindi diciamo che burocrazia e spesso lo statalismo è un peso che pesa troppo sulla schiena di chi invece produce. Allora, questa è l'occasione per metterci alla prova, per mettersi a disposizione di un'Italia che deve sicuramente cambiare indirizzo e dare i risultati che è in grado in effetti di dare. Perché l'eccellenza dell'Italia è la parcializzazione delle culture. L'Italia non è mai stata unita e questa è stata l'eccellenza dell'Italia. Perché ogni regione, ogni città, ogni città-stato, ogni comune, si è creata una propria cultura, una propria capacità, una propria eccellenza, che è tutta messa insieme con l'Unità d'Italia, però non è stata valorizzata. Si è cercato di centralizzare su Roma la gestione del territorio e annullare le diversità, che sono invece l'eccellenza dell'Italia, perché abbiamo visto la gastronomia, la cultura e tutto il resto. Sono specifiche eccellenze di ciascun territorio. È un mosaico l'Italia e quindi va conservata come tale. Certo. E lo Stato italiano avrebbe un ruolo importante anche nella gestione, nella promozione all'estero, coordinando quella che è l'immagine del Paese Italia, poi peraltro. Ma io non lascerei a organizzazioni statali questo mestiere, perché c'era, c'è tuttora, non ha mai funzionato, non credo funzionerà in futuro. Diciamo che le organizzazioni, ci siano la possibilità di creare delle organizzazioni private che rappresentino le varie categorie e che si promuovano da soli. Io passo il microfono al nostro pubblico, scusate dalla regia se passo davanti e vi faccio diventare matti, perché qui abbiamo una realtà che a Torcello sta creando qualcosa di assolutamente meraviglioso. Volete raccontarci cosa vi siete inventati in quest'isola che sicuramente è difficile da raggiungere, ma è assolutamente una perla nell'ambito veneziano. Prego. A noi come Flamingo Art Media e con il progetto Habitat, un film documentario, siamo portavoce narrante della vita e della quotidianità dei dieci abitanti dell'isola. e per la manifestazione Expo presenteremo durante gli eventi promossi da Coldiretti un promo sulle prelibatezze dell'isola, in particolare le castraure del coltivatore Paolo Andrick. Cosa sono le castraure? Le castraure, i carciofi, i violetti. Che è un coltivatore a Torcello, giusto? O mi sto sbagliando? Lui si sta dedicando alla castraure, al carciofo. Alla castraure. Però è un'isola, la perla della laguna, che è sospesa tra acqua e cielo e quindi può vantare oltre agli orti anche ai prodotti tipici della laguna, afferti dal mare e quindi le moecche. Spieghiamo a casa a chi non sa cosa sono le moecche. I granchi teneri che non hanno fatto la muta durante i vari periodi autunnali e primaverili. Noi siamo portavoce, quindi seguiteci e sosteneteci al nostro sito www.flamingoartmedia.it e storie di chi? Bravo, questa sera fate pubblicità, sono realtà piccole che hanno bisogno di spazio e che assolutamente devono trovarlo. Qui lo potete trovare assolutamente. Ecco, in questo senso internet può aiutare. Realtà che appunto sono difficili da raggiungere però una volta conosciuto non magari vuole rimanere in contatto. Assolutamente. Ecco che la rete può essere uno strumento. Nel caso nostro ci appoggiamo al linguaggio cinematografico, quindi al documentario, e poi alla comunicazione generale, quindi a sfruttare i social network, i blog, nel caso... Funziona? Funziona, sì. Da settembre, noi stiamo ancora producendo, lo stiamo realizzando, il documentario, quindi siamo ancora in una fase iniziale, durerà un anno, quindi siamo a metà strada e vediamo di andare avanti. E in bocca al lupo. Grazie. Alla sua destra, se passi il microfono, parliamo... Scusami, alla mia destra, alla sinistra la signora in bianco, parliamo di vetro, Venezia, eccellenza per il vetro, mi racconta la sua realtà, di che cosa consiste. Certo, intanto buonasera a tutti. Buonasera. Allora, la nostra realtà nasce 150 anni fa, un po' di più nel 1862, come scuola del vetro. Abbiamo ottenuto questa vocazione, quindi a Murano, perché noi siamo a Murano naturalmente, continuiamo a fare formazione sul vetro. Nel 2014 abbiamo ospitato 1200 ragazzi. Da dove venivano questi ragazzi? Sostanzialmente italiani, poi ovviamente collaborazione con le scuole internazionali. C'è un'attenzione dei giovani a questo tipo di professioni oggi? C'è un'attenzione e dobbiamo farla noi arrivare a questa attenzione. E' un ritorno anche alla passione verso queste cose. Una volta si tramandava in famiglia, era il mestiere del padre che passava il figlio. Oggi magari non è più così e per fortuna esistono scuole come le vostre. Io penso, e quello che facciamo tutti i giorni, è quello di fare cultura del vetro. Noi dobbiamo un po' travalicare il confine dell'isola di Murano ed è anche per questo un po' che poi ci si appoggia ad iniziative come Expo Veneto per fare arrivare le nostre eccellenze al di là dei nostri piccoli orti. Cultura del vetro vuol dire trovare proprio le nuove leve che portino avanti questa arte millenaria. Cerchiamo di farlo tutti i giorni. La cultura del vetro è fondamentale. Dobbiamo portarla avanti come la cultura delle eccellenze nella nostra Italia. puntiamo tantissimo sui ragazzi giovani e puntiamo tantissimo sulla formazione. Certo. Grazie ancora. La regia mi chiama alla pubblicità. Tre minuti. Tornate e restate con noi. Continuiamo a parlare di eccellenza italiana con Expo Veneto.